Grazie a tutti. E' proprio nel cuore di un concorso perché non si mangia solamente a bianca e a bianca, ci sono dei team in gara e ci sarà anche il mondo fondamentale per la stanza. Speriamo di fare il nostro dovere e sentiremo cosa si può fare. E noi restiamo in attesa di aspettare anche le vostre interviste, se ho spazio per ringraziarvi. Ok, siamo qui, siamo di Quasiradio, una tv radio web di Firenze e siamo venuti a Rimini al Beer and Food Attraction. E niente, stiamo partecipando a questo concorso di cuochi e ci stiamo divertendo molto. Grazie a tutti, ciao.